Musica Presso la sede di Unica si è svolto Linea Diretta Tour, un tavolo tecnico per approfondire tutte le tematiche relative alla ripresa delle attività, con un focus sugli aspetti che riguardano le piccole e medie imprese, fortemente colpite dalla pandemia. Ci stanno qui tutte le autorità del mondo del lavoro, noi abbiamo rispetto al lavoro, Limbs, Linea, tutti quanti, noi consulenti del lavoro. E come cambierà il lavoro? Il lavoro verrà stravolto perché con l'approvazione del PNRR chiaramente credo che in Italia si svilupperanno, in cinque anni saranno investiti circa mille miliardi, di mille miliardi tra pubblico e privato e quindi è una somma veramente enorme. Se pensiamo poi che tra digitale e green dovranno essere assunti circa un milione di lavoratori con delle qualifiche particolari, si può capire lo sviluppo che si avrà nei prossimi giorni, non dico nemmeno anni, nei prossimi giorni. Il mondo è cambiato, sta cambiando i mestieri, sta cambiando l'approccio lavorativo, si sta cambiando anche il modo di produrre e quindi i consulenti del lavoro, le imprese e le istituzioni a mio avviso devono viaggiare in un'unica direzione al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia e affrontare tutti insieme questa nuova sfida, ovvero la sfida del cambiamento. L'iniziativa è la prima tappa di un ciclo di incontri, Un confronto a tutto campo su aspetti e questioni da mesi al centro del dibattito politico nazionale, a partire dal Green Pass e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro. Come sapete Unica promuove gli incontri sul territorio e lo sviluppo dei rapporti con le istituzioni, con i professionisti per migliorare sempre di più l'assistenza che forniamo direttamente o tramite i professionisti alle imprese. Noi teniamo molto allo sviluppo delle imprese e alla tenuta in questo periodo importante e allo sforzo che le imprese stanno facendo per riprendere in maniera efficace l'attività ordinaria. Purtroppo il rapporto a distanza e quindi telematico con PEC piuttosto che altri strumenti, ma anche quello in webinar, non è la stessa cosa dell'incontro nelle sedi opportune, quindi a volte alcuni problemi anche semplici non riescono a risolversi. Quindi spero che si possa tornare indietro, non perché la tecnologia non vada bene, va benissimo, ma è chiaro che ci sono dei momenti in cui bisogna incontrarsi in presenza, quindi è cambiato il rapporto, ma purtroppo in questo momento per i professionisti è cambiato in senso negativo. Quello che è emerso dall'utilità di questo evento è l'importanza del confronto e dell'interazione, della cooperazione tra gli enti, le istituzioni, gli ordini professionali, i tecnici e le organizzazioni sindacali come la nostra, a tutela delle piccole e medie imprese e degli imprenditori nostri associati. L'intento che abbiamo dopo questa iniziativa è quello di voler continuare per essere pronti nell'assistenza delle aziende iscritte ad una.